John Borno ragazzi, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video Allora non vi nego che diciamo fare questo video per me è veramente difficile Cioè io mi auguro che la Lazio non mi ascolti e che non compri i giocatori che ho detto io Oppure magari sono giocatori di merda e quindi mi auguro che mi ascolti e che compri i giocatori che ho detto io Perché ovviamente non mi augurerei mai che accada quello che è scritto nel titolo sulla Lazio Però per un fattore di professionalità ho deciso comunque di regalare uno spazio alla Lazio Perché devo fare 20 squadre, mi sembrava poco carino farne 19 su 20 Visto che io sono dichiaratamente tifoso romanista però questo canale si gestisce un po' su tutte le squadre della nostra Serie A E quindi come ho fatto quello dell'Atalanta, del Bologna, della Cremonese, che già sono usciti Dell'Empoli, della Fiorentina, dell'Inter, della Juve Ecco qua anche quello della Lazio Se volete domani quello del Milan vi chiedo di lasciare qua sotto una cosa come tipo 4.000, 5.000 mi piace Se ne lasciate addirittura 5.000 subito potrei pensare di portarvelo oggi stesso Quello del Milan Detto questo vi invito anche ad iscrivervi al canale perché il 40,5% di chi mi segue non è iscritto a questo canale Non è una cosa carina Iscrivetevi mi raccomando per supportare tutto ciò che faccio Detto ciò devo ringraziare Gianluca Mattalini per avermi aiutato Appunto a costruire questa Lazio Tifoso laziale quindi l'ho contattato Mi ha aiutato e alla fine siamo riusciti appunto a venire a capo ad una situazione non semplice Perché la Lazio quest'anno dovrà vendere tanto Dovrà perderà tanti calciatori Dovrà cambiare tanto più che vendere tanto Per questo qua sotto come leggete c'è scritto 50 milioni di euro Allora io penso che la Lazio potrebbe spendere quella cifra là quest'anno Perché so che vi sembrerà strano Ma ad ogni modo ragazzi la Lazio in qualche modo deve fare Cioè non può rimanere senza giocatori E visto che molti partiranno o parte Milinkovic e in quel caso lo togliete da questa squadra Oppure lo tenete e vi rendete conto appunto che lo dito quest'anno spenderà 50 milioni di euro Poi in realtà lo dito che non spende è un meme nel senso è vero che non spende tantissimo Però nelle varie sessioni di mercato la Lazio comunque ha speso Proprio per questo secondo me quest'anno la Lazio farà un buon mercato Io ho questo sentore Detto ciò partiamo subito dai portieri In porta la Lazio parte con Stracoscia, Reina e Adamonis Allora qua va considerato un fattore importante Il fattore importante è che Adamonis probabilmente rimarrà come terzo Ma sti cazzi scusate ma è così Reina invece come secondo va benissimo Ha rinnovato il suo contratto e sarà la chioccia per il primo portiere Che non sarà più Stracoscia Stracoscia è andato via, gli hanno fatto la festa Gli hanno fatto la festa se me li hanno menato in realtà Gli hanno fatto la festa nel senso gli hanno dato la maglietta a tutti i trofei vinti e tutto quanto Lascia la Lazio e va a cercare fortuna altrove Quindi noi un portiere che sostituisca Stracoscia lo dobbiamo assolutamente prendere Detto ciò diciamo che fortemente sarà fatto il nome di Carnesecchi Ve lo ricorderete Il problema qual è? Il problema è che Carnesecchi si è dovuto operare E starà fuori non si sa quanto Un mese, due mesi, tre mesi Comunque starà fuori Proprio per questo la Lazio potrebbe anche pensare di puntarci comunque Chiedere uno sconto all'Empoli All'Empoli? Al Cagliari Al Cagliari All'Atalanta Vi sto rincoglionendo All'Atalanta Per il calciatore che torna dal prestito alla Cremonese Però alla fine secondo me non andrà sul calciatore Voglio portarvi all'attenzione un nome un po' più pronto Cioè già adesso senza aspettarlo E faccio il nome di Vicario Ecco perché vi ho detto Cagliari Ecco perché vi ho detto Empoli Allora il discorso è che Vicario era un giocatore del Cagliari Cagliato in prestito all'Empoli L'Empoli lo riscatterà per 8-9 milioni di euro Per questo penso che per prenderlo Ti serviranno almeno 11 milioni Quindi l'Empoli deve avere una plus valenza Ma la farà La farà assolutamente Non può tirare troppo Non ditemi Eh ma se lo paga 9 non lo venderà mai a 11 Sì ragazzi Noi ero pagate 18 Per Vicario che ha fatto una buona stagione in Serie A Però per me sarebbe perfetto Per fare il portiere della Lazio Vicario in Serie A Anche perché quest'anno la Lazio ha fatto proprio fatica A diciamo trovare il portiere adatto Però avere Vicario e avere Reina E quindi avere la possibilità di far crescere Vicario Con un portiere come Reina alle spalle Secondo me sarebbe tanta tanta roba E quindi con Vicario, Reina e Adamoni Se il bilancio inattivo di 39 milioni di euro Ce ne passiamo adesso ai difensori centrali Per quanto riguarda il tassello relativo ai difensori centrali La Lazio ha Luis Felipe, Acerbi, Patric e Radu Madonna mia Questo comparto ragazzi va rifatto Completamente Ma completamente Luis Felipe se ne andrà a parametro a zero Non ha rinnovato il suo contratto E quindi ciò a Luis Felipe È stato un piacere vederti in Italia Probabilmente andrà a giocare in Spagna Anche se ancora non è deciso Acerbi potrebbe lasciare Dovrebbe lasciare Dobbiamo capire come Dobbiamo capire in che modo Però dovrebbe lasciare Mentre Patric e Radu Penso che siano comunque degli ottimi panchinari Patric ha rinnovato il contratto Sarri vede di buon occhio Patric e Gasbarron Che quest'anno bene o male Quando ha giocato Non ha fatto sempre cagare Non è che dico Ha fatto bene Ha fatto bene Troppo Però non ha fatto sempre cagare Radu ormai è la bandiera della Lazio Gioca centrale Gioca terzi Lo ha fatto tranquillamente Quindi io lo terrei Detto ciò Il discorso che faccio con Acerbi È il primo E io visto che questo scambio Era uscito fuori Lo riproporrei Andrei dalla Juventus E gli darei Acerbi Più 3 milioni di euro Che penso che più o meno Quella è la cifra adatta E andrei a prendermi Daniele Rugani Daniele Rugani Che per me È un buon difensore E che alla Lazio Potrebbe anche rimettersi in piedi Certo Non gli si chiede di essere Van Dijk Alla prima stagione Però in un comparto Disastroso come questo Secondo me Potrebbe far bene Anche perché ragazzi Ormai Acerbi Ha rotto con tutti Ha rotto con la tifoseria Ha rotto con tutti E quindi Non penso sia utile Tenere un calciatore Come Acerbi Detto ciò però Io fossi nella Lazio Terrei i Lugani In considerazione Per alternarsi Con il titolare Visto che la Lazio C'ha anche l'Europa League Quest'anno Qua secondo me Compresi per Patrick E a Radu Ne servono 5 A Radu che gioca anche terzino E poi ovviamente Patrick che è un panchinaro Insieme magari a Rugani Che si adatterebbe Con uno dei due titolari Uno dei due titolari È Casale Dell'Ellas Verona Setti è molto amico di Lotito Quindi se Lotito Si interessa al calciatore Setti lo dà a Lotito Lo pagherebbero 12 milioni di euro Quindi una cifra Abbastanza importante Però secondo me Casale È uno di quei giocatori Da futuro certo C'è uno di quei giocatori Che li prendi Però poi ti fanno la differenza E quindi io Ben o male Casale Me lo prenderei E 12 milioni Li andrei a spendere L'altro giocatore Che prenderei È un parametro zero Se ne era parlato Già ampiamente Ed è Alessio Romagnoli Che si parlava di lui E di Rugani Tra le altre cose Come il futuro Dei centrali Della nazionale italiana Poi non si è fatto più niente Ma perché soprattutto Romagnoli e Rugani Hanno intrapreso Dei percorsi Molto difficoltosi Nonostante uno abbia giocato Al Milan E uno alla Juventus Quindi avevano entrambi Possibilità di far bene Hanno fatto male Tutti e due Però insomma Alla Lazio C'è un clima E c'è una Situazione difensiva Che li metterà A loro agio Perché peggio De come hanno fatto Negli ultimi anni È difficile da fare Insomma La Lazio lo sapete È molto forte Dal centrocampio in su Ma dietro È sempre stata Molto scricchiolante Quindi con Romagnoli Casale e Rugani Su una difesa Quattro tra l'altro Farebbero un ottimo Comparto difensivo Io vedo Romagnoli E Casale titolari Con Rugani Che di tanto in tanto Giocherà Padrić che di tanto in tanto Giocherà Mentre Radu Rimane giusto Per la presenza Cioè per fare il tassello Quinto di difesa Oppure il terzino a sinistra Detto questo Con Romagnoli Casale e Rugani Patrić Radu Il bilancio in attivo Di 24 milioni di euro Ce ne andiamo Sui terzini Allora Qui la Lazio A Lazari Marusic Isai E Kamenovic Lazari rimane Cioè almeno io lo terrei Poi non so se magari Va via di fronte A qualche offerta gigantesca Ma io a Lazari Lo terrei Così come Marusic Secondo me rimarrà a fare Il panchinaro Kamenovic Rimane L'unico dubbio Mi sovviene su Isai Perché allora Secondo me la Lazio Isai lo terrà anche perché Lo dicevo Sarri se lo porta anche Quando va a fare pipì Io regge Isai Cioè nel senso Isai ragazzi Se lo porta ovunque Sarri Se l'è portato Ce l'aveva all'Empoli Se l'è portato al Napoli Se l'è portato alla Lazio Lo voleva anche al Chelsea Non so se vi ricordate Però io lo cederei Per 5 milioni di euro Quindi una cifra Relativamente bassa Noi stiamo parlando Di cifrone Però io lo cederei Io andrei a sostituirlo Con un calciatore Che costerebbe 7 milioni di euro Quindi un buon calciatore Che secondo me Sarebbe anche perfettamente in linea Con il modus operandi Della Lazio Ovvero Parisi Dell'Empoli Vale 7 milioni di euro È un buon terzino a sinistra È giovane È di prospettiva Ti farebbe comodo Percepisce poco di stipendio Quindi anche sotto questo punto di vista È perfettamente in linea Con il modus operandi Della Lazio Di Tare Di Rodito eccetera E per me la Lazio Avrebbe rifatto Completamente la difesa In questo caso Spendendo solamente Un sovrapprezzo Di 2 milioni di euro Perché hai venduto Parlo di terzino ovviamente Hai venduto Isai a 5 Hai preso Parisi A 7 milioni Risparmiandone secondo me Anche in ingaggio Poi bisognerebbe capire Che te li dà 5 milioni per Isai Però secondo me Insomma un pochino di mercato C'è anche tipo il Torino Te li potrebbe anche dare Quindi con Lazzari Parisi Marosic C'è Camenovi C'è il bilancio inattivo Di 22 milioni di euro Considerando che qui può giocare Anche Radu Ce ne andiamo sui mediani In mediana La Lazio quest'anno Aveva Cataldi E Lucas Leiva Ricordiamoci che qua Volendo potrebbe giocare Anche Basiz Sebbene ormai il suo ruolo Sia quello di Mezzala Cataldi rimane Io Cataldi lo terrei Io Cataldi lo terrei Alla fine ormai è Laziale Quindi ormai si è proprio Come posso dire Preso in carica La causa Bianco Celeste Mentre Lucas Leiva Andrà via a parametro zero Capite perché vi dico Che secondo me La Lazio spenderà 50 milioni Perché quest'anno Ragazzi se ne vanno Tutti a parametro zero Nessuno ha rinnovato il contratto E quindi la Lazio dovrà Per forza di cose Fare un rinnovamento completo E in mediana La Lazio Avrebbe No Ha già preso Marcos Antonio Lo ha pagato 8 milioni di euro Si parla sulla carta Di un buon profilo Di un ottimo profilo Quello di Marcos Antonio Credo che sia Davvero buono Per la Lazio L'hanno anche pagato poco È giovane È forte L'hanno pagato poco Per il discorso relativo Alla situazione bellica Tra Ucraina e Russia E quindi Marcos Antonio Sarebbe comunque Un'ottima Pedina sulla mediana Che dovrebbe Tra le altre cose Giocare titolare Quindi Marcos Antonio Titolare Cadaldi Manchinaro Il bilancio A 14 milioni E andiamocene adesso Sulle mezzali Per quanto riguarda Le mezzali La Lazio ha Milinkovic Luis Alberto Basis E Akpa Akpro Allora Qua la situazione Secondo me È molto chiara Io fossi nella Lazio Se appunto Lo dito Ci avesse La possibilità Quanto meno Di spendere Quei 50 milioni Senza doverne Incassare Al ulteriori Andrei a Tenere Milinkovic E tenere Luis Alberto Rifiuterei Tutte le offerte E me li darei Perché secondo me C'è ancora bisogno Di loro E come vedete Dai panchinari Cioè da Basis E da Akpa Akpro La Lazio Ancora non ha trovato I sostituti Giusti Questo dovrebbe essere L'anno decisivo E quindi io farei Una mossa In base a quello Terrei anche Basis Tra le altre cose Mentre c'è un'offerta Pare che la Lazio Abbia fatto un'offerta Di 10 milioni di euro Più Akpa Akpro E Raul Moro Al Verona Per prendere Ilic Dell'Ellas Verona Filippo No Come si chiama Filippo Ilic No Josip Ilic No Non so come Ivica Ilic Forse si chiama Ivica Ilic Comunque prenderei Ilic Dall'Ellas Verona Se l'offerta Viene accettata Per me Ilic È perfetto Il Verona Prenderebbe Raul Moro Akpac Pro Io li saluterei Molto volentieri E prenderei Ilic E per me Ilic In qualche modo Potrebbe essere Il futuro Milinkovic Savic Tra l'altro È molto amico Di Milinkovic Giocano in nazionale Insieme Si conoscono Molto molto bene E qualcuno Definisce Ilic Il nuovo Milinkovic Quindi se quest'anno Dovesse Effettivamente esplodere Ecco che l'anno prossimo Potrebbe essere l'anno decisivo Per far partire Sergei Milinkovic Savic Quindi questo per me Deve essere l'anno In cui la Lazio Mette le mattonelle Per il futuro Oltre che per il presente E questa sarebbe La mattonella ideale Ripeto che Setti è molto amico Di Lodito E che quindi potrebbe Anche concedergli Di avere Ilic Detto questo Avremo Milinkovic Savic Anzi avremo Avrete Dico sempre avremo Ma in questo caso Avrete Milinkovic Savic Luis Alberto Ilic Basis E il bilancio inattivo Di 4 milioni di euro Passiamo adesso Alle ali Per quanto riguarda Alle ali La Lazio in questo momento Ha tutta questa gente Zaccagni però Nessuno di Qualcuno sì Ma non tutti Zaccagni Felipe Anderson Pedro Giovanni Cabral Raul Moro Romero Ovviamente Raul Moro Subito lo impacchettiamo Perché lo abbiamo inserito Nella trattativa Che ha portato Alla Lazio Ilic E quindi va via Zaccagni Va tenuto Felipe Anderson E Pedro Per la panchina Per essere inseriti A partita in corso Sono secondo me Perfetti E quindi secondo me Andrebbero tenuti Sia Felipe Anderson Che Pedro Con Anderson Di panchina a sinistra E Pedro Di panchina a destra Detto questo Romero Lo andrà a prestare La Lazio Gli farà un rinnovo Di contratto Perché ancora Non è maggiorenne Quindi ai minorenni Non si può fare Un rinnovo di contratto Più alto Di due anni Mentre adesso Che diventerà maggiorenne La Lazio Gli rinnoverai il contratto Glielo rinnoverai per due anni E poi lo presterai secco In Serie A Per fargli fare esperienza Per me Luca Romero È un ottimo calciatore Io lo conoscevo già Prima che arrivasse Alla Lazio Però alla Lazio Gli ha dato veramente Poco spazio Quindi è inutile Per me tenere un calciatore Sul quale si punta zero Tanto vale prestarlo E sperare che cresca O te lo tieni Lo fai giocare Oppure lo presti E a questo punto Penso che la Lazio Farebbe bene a prestarlo Per quanto riguarda Invece il discorso Legato a Giovane Cabral Io credo invece Che quella discussione Sia un po' diversa Ha un diritto di riscatto La Lazio Ho vissato a 7 milioni di euro Ma non li pagherà La Lazio Vuole avere il rinnovo Del prestito Ma tra un anno Il calciatore scade E non vuole assolutamente Rinnovare il suo contratto Con la squadra Di provenienza Proprio per questo Credo che la Lazio Cercherà di attuare Uno sconto Lo vorrebbe tenere Sarri Giovane Cabral Perché gli è piaciuto Nonostante non l'abbia mai fatto giocare Se non all'ultima giornata Però comunque Lo vorrebbe tenere Per questo secondo me Quei 4 milioni di euro Se li accetta Per prendere Giovane Cabral Se potrebbero anche fa Detto questo però Io andrei a prendere anche un titolare E il titolare in questo caso Sarebbe un parametro zero E sarebbe Federico Bernardeschi Per il quale C'è un grosso problema Con il Napoli In queste ore Non so se poi magari Quando vedrete questo video Sarà risolto Però pare che Sia saltato ufficialmente Bernardeschi a Napoli E allora io andrei a prenderlo Per la Lazio Perché comunque Credo che sia Un buon calciatore Che in una dimensione minore Rispetto alla Juventus Come quella della Lazio Possa davvero far bene Soprattutto Qualcuno già è pronto Lo so Non è più un altro Tra l'altro Non è più un parametro zero Allora non hai contato I giocatori Abbiamo perso Ragazzi La Lazio si è tolta Gli ingaggi di Lucas Leiva Di Acerbi Si è tolta gli ingaggi Di Di Luis Felipe Si è tolta l'ingaggio Di Stragosha Si è tolta l'ingaggio Di Isai Si è tolta diversi In gaggi E quindi è normale Che in qualche modo Si vada a compensare Visto che qui C'avevano 27 ali E invece io ne ho messe Poi effettivamente 5 Di cui uno è molto giovane Giovane Cabral Tra l'altro Giovane Giovane E può giocare anche punta Io credo che questa Sarebbe la mostra ideale Da fare Per la Lazio Quindi Zaccagni Bernardeschi Felipe Anderson Pedro Giovane Cabral E il bilancio A zero Detto questo Ultimo tassello Passiamo alle punte centrali Anzi alla punta Posso scrivere pure punta Perché era una Ovvero Ciro Immobile Da quando la Lazio Prima c'era Caicedo Che era tanta roba Come vice L'ha venduto Per prendere Murici Anzi prima ha preso Murici Poi l'ha venduto Murici ha fatto cagare Ha venduto anche Murici Ha preso Giovane Cabral Ma Giovane Cabral È un'ala Che però può fare anche la punta Quindi possiamo anche contarlo qua Però penso che la Lazio Un attaccante voglia prenderlo Ora Il nome che mi è venuto in mente Che è oggettivamente Molto difficile Che però chiede un paio Di milioni l'anno E si può anche fare È Dries Mertens Se Dries Mertens Non dovesse rinnovare Con il Napoli Secondo me sarebbe perfetto Provare A prenderlo Per fargli fare Il vice Immobile Cioè per me Immobile punta E Mertens che subentra Sarebbe qualcosa di clamoroso Ovviamente Mertens Poi si impegnerebbe A giocare anche sulle tue ali Perché non puoi pensare Di lasciare fuori Fisso un calciatore Come Immobile E qua a meno Che tu non prenda un vecchio Non ci viene nessuno Ma neanche un Simeone Di cui si sta parlando in queste ore Io dubito che venga Ma che viene a fare A rovinarsi la carriera Perché deve andare alla Lazio Perché va alla Lazio Non va alla Lazio ragazzi Perché comunque Immobile le mette tutti in panchina Poi se c'è Mertens È un'altra cosa Però storicamente Immobile mette Immobile Fa 20 partite male Comunque gioca A parte non le fa Però comunque gioca se le fa Perché è Ciro Immobile E quindi la Lazio apribe due giro Immobile e Mertens A parte gli scherzi Con Immobile Mertens Le punte sarebbero fatti E noi passiamo Alla formazione La formazione Tra le altre cose Mi viene oscurata Un po' dalla mia telecamera Quindi la abbasso Eccola qua Allora Vicario in porta Con Reina In panchina Difesa 4 Con Casale e Romagnoli Lazeri a destra Parisi a sinistra Con Patric e Rugani Panchinari Marusic panchinaro di destra E Kamenovic panchinaro di sinistra Con Radu Che può giocare anche a sinistra Al posto di Kamenovic Poi bisognerà vedere se Sarri In assenza di Parisi Vorrà adattare Marusic E di là Perché lo può fare tranquillamente Vorrà mettere l'esperienza di Radu O la gioventù di Kamenovic In mediana giocherebbe Marcos Antonio Con Cataldi in panchina Cataldi è il proprio storico Mediano di panchina Lo farà fino ai 146 anni Mezzali, Milinkovic e Savic Con Ilic pronto a subentrare Luiz Alberto con Basiz Pronto a subentrare Ma mancava solo Si chiamasse Luiz Albertovic E poi l'avevamo fatti tutti A destra Bernardeschi Con Pedro in panchina A sinistra Zaccani Con Felipe Anderson in panchina Davanti Immobile Con Mertens in panchina Per me questa Lazio Sarebbe da Champions Mi auguro che non la facciano Perché questa Lazio qui Mi farebbe molta 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 paura Non lo nego Mi auguro Spero che invece Non venga fatta Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Io vi ringrazio Per aver visto questo video Tantissimi mi piace Buona scelta L'alene come sempre Ci vediamo ad un prossimo Video Video Gi certo Ciao 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 Ciao